Bentornati a Spritz, siamo con il presidente del GAL dei Laghi e Valla Seriana, l'ingegnere Alex Borlini e con lui stavamo parlando, facendo un quadro completo sull'attività di questo ente o soggetto poco conosciuto, il GAL. Ma partiamo in questa seconda parte dell'intervista con alcune azioni fatte che sono state innovative o anche di principio di sperimentazione. Ce ne vuole parlare ingegnere? Sì, noi come GAL abbiamo presentato alcuni progetti a Regione Lombardia che sono questi progetti di cooperazione. I progetti di cooperazione sono principalmente degli interventi di studio di animazione territoriale volti appunto a valorizzare quello che è il proprio territorio. Ne abbiamo presentati cinque, tutti finanziati per un importo complessivo di questa animazione, di questa attività sul territorio di circa 500 mila euro. e sono andati a comprendere diverse tematiche. Abbiamo avuto il progetto Oroba e Cando che il tema principale era quello di valorizzazione della ciclopedonalità locale con l'integrazione di quella che è la valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio, quindi legare la mobilità lenta alle attività agricole all'interno del nostro territorio che ci ha legato con il GAL della Valtellina, il GAL della Val Brembana e il GAL del Colli di Bergamo con l'obiettivo principale di valorizzare questa rete di mobilità lenta all'interno di questo territorio, che è un territorio vasto, uscendo con un progetto di uno studio di fattibilità, praticamente questo è stato il risultato, che prevede una montare di circa 14 milioni di euro per la valorizzazione e il collegamento di questa ciclopedonalità. Piano che abbiamo già presentato sul territorio e che presenteremo a Milano in sala Testori il prossimo 12 maggio, perché alla fine il nostro obiettivo è fare uno step in più, siamo arrivati al progetto di fattibilità, questo progetto di fattibilità è uno strumento che emana i decisori politici del nostro territorio, in particolare per quanto ci riguarda le province e le comunità montane e l'obiettivo è quello di farcelo alla fine finanziare, quindi trovare attraverso uno strumento che può essere quello dell'accordo di programma la possibilità di finanziare questo studio di fattibilità che riguarda la valorizzazione della ciclopedonalità, quindi della nostra rete viabilistica di mobilità lenta, con quello che è la valorizzazione agroalimentare. Abbiamo avuto un altro progetto, un progetto JOIN, che mira alla valorizzazione, alla promozione all'interno del nostro territorio delle attività imprenditoriali, in particolare legate ai giovani, in questo caso la collaborazione era con il GAL, Garda Valsabia, il GAL Valle Brembana e due GAL esteri, un GAL della Corsica e un GAL della Spagna e attraverso questa collaborazione e questa sinergia abbiamo creato diverse attività mettendoci a disposizione con una sorta di sito web dei sapori in rete, mettendo disponibili tutte quelle che sono le opportunità formative gratuite che ci sono all'interno del nostro territorio per valorizzare quello che è la potenziale di innovazione imprenditoriale e abbiamo creato anche quello che è un metodo innovativo di espressione di quelle che sono le idee imprenditoriali in particolare dei giovani sviluppando questo Alcaton. Alcaton che abbiamo sviluppato a Gaverina, che quello che vedete nelle immagini riguarda proprio un filmato riguardante appunto facendo sintesi dell'evento in cui questi ragazzi sono stati principalmente andati a conoscere questo territorio, la Valle del Freddo di Gaverina e sono andati a conoscerla attraverso, hanno fatto alcuni della formazione per quanto riguarda gli aspetti naturalistici e alla fine si sono ritrovati in questo parco della biodiversità per mettere insieme quanto avevano appreso e cercando di tirar fuori quelli che erano i punti di forza e i punti di vivevolezza di questo territorio. I ragazzi poi hanno lavorato in gruppi in autonomia nei giorni successivi guidati da alcuni mentor che sono praticamente alcuni a che sono persone che abbiamo intercettato attraverso alcune nostre misure che abbiamo fatto nei mesi scorsi. Questi mentor provengono da delle società, da delle neosocietà che sono state finanziate attraverso il nostro bando con praticamente queste nuove neosocietà hanno preso, prenderanno 30 mila euro ciascuna per la formazione, per la realizzazione di queste neosocietà e abbiamo preso questi imprenditori, questi neoprenditori a svolgere la funzione di mentor a questi allievi provenienti da classi superiori diverse, quello che vedete è Cecchinelli che è un dirigente del CUNI di Bergamo, del settore cultura e qui vedete alcune testimonianze dei ragazzi che hanno visto in maniera molto positiva quella che è stata questa esperienza e che la ritengono un'esperienza utile al territorio anche per tirar fuori quelle che possono essere le loro capacità imprenditoriali e quindi è stato veramente un bel evento. Vedo che con interesse puntate molto sul capitale umano, ritengo senza dubbio condiviso da lei che portare una certa cultura, soprattutto nei giovani, sia il momento migliore per far capire che il futuro può essere migliorato e cambiato. Sicuramente la parte in particolare, quella formativa, quella di portare avanti, dare competenze soprattutto ai giovani, diventa fondamentale per poter creare idee di sviluppo all'interno di questo territorio. Probabilmente siamo stati in particolare alla Val Seriana, una realtà molto industrializzata quindi focalizzata sugli aspetti che riguardavano principalmente l'industrializzazione. Noi attualmente abbiamo un territorio che non è solo legato agli aspetti industriali ma è anche legato alla natura, al benessere e a questi nuovi modi, a questi nuovi mercati che dobbiamo essere in grado di intercettare. Per saper intercettare questi mercati, non avendoli mai comunque sia visti prima, dobbiamo cercare di formare le persone e cercare di tirar fuori anche attraverso degli scambi con altri territori, quindi qui l'importanza dei progetti di cooperazione, quelle che sono le miglior pratiche, cercando di portarle all'interno del nostro territorio. Quindi sicuramente i progetti di cooperazione hanno questa capacità, progetti di cooperazione che hanno come capacità quella di mettersi insieme per creare della forza, ma hanno la capacità anche di mettersi insieme per scambiare quelle che sono delle buone pratiche che all'interno dei territori, territori molto diversi, possono essere sicuramente un valore aggiunto. Se opportunamente recepite, come stiamo cercando di fare, come è importante far passare questi messaggi soprattutto ai giovani. La vedo particolarmente interessato a questa esperienza esterna, quindi le sarebbe favorevole ripeterla qualora venisse proposta ancora l'opportunità? Sicuramente è un tema che attualmente abbiamo sottoposto a Regione Lombardia, perché il nostro obiettivo è quello di continuare a fare questi progetti di cooperazione, perché da una parte ci aiutano anche a comprendere meglio quelle che sono le esigenze del territorio, perché parlando, andando sul territorio, come questa esperienza che abbiamo avuto a Gaverina, ci ha portato a contatto diretto anche con gli operatori di quel territorio e quindi ci aiuta anche noi a capire meglio quelle che sono le esigenze e dall'altra parte riuscire a tramutare queste esigenze in qualcosa di concreto e qualcosa di concreto è il passaggio di conoscenze e di competenze in particolare per quanto riguarda i giovani. Possiamo dire per quanto riguarda il territorio che grazie al vostro intervento c'è stata una maggiore attenzione e una salvaguardia al territorio stesso? C'è stato, c'è tanto lavoro da fare, abbiamo dato il nostro, credo il nostro piccolo contributo, crediamo che possiamo fare tanto, possiamo fare di più, sicuramente abbiamo la capacità di creare sinergie accoglienti sia territoriali ma anche di livello superiore come per noi può essere, la Regione Lombardia diventa determinante. Noi non crediamo di aver fatto che noi possiamo risolvere il problema ma possiamo essere un elemento efficace insieme ad altre realtà e ad altre strategie per poter essere parte della soluzione del problema. Quindi sicuramente se tutti riusciamo a mettere insieme le forze e se insieme riusciamo a mettere insieme le forze possiamo fare sicuramente un buon lavoro per cercare di sviluppare al meglio questo nostro territorio che è dotato di tante ricchezze spesso nascoste che dobbiamo solo tirare fuori, ricchezze spesso nascoste anche in termini di capitale umano, dobbiamo essere capaci di incontrare, di conoscere, di confrontarci con serenità per cercare di tirar fuori il meglio che abbiamo sul nostro territorio, abbiamo ricchezze paesaggistiche ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo anche ricchezze di capitale umano da poter valorizzare. Lei tra qualche mese scadrà, sicuramente si ripresenterà e molto probabilmente voci di corridoio, usiamo questo termine, la danno ancora per Presidente. Quali sono le azioni che intende sviluppare sempre stando nell'alveo delle indicazioni di mamma Lombardia? Sicuramente, come le ho detto prima, uno dei temi principali è la gestione di questo post-Covid che sta cambiando radicalmente anche la vita delle persone, quindi anche l'abitare delle persone, quindi questo per noi, soprattutto per queste nostre aree interne, diventa un tema da seguire anche dal punto di vista sociologico, diventa un tema da seguire con molta vicinanza e cercare, come l'ho detto, di saper cogliere e sviluppare tutte le opportunità che abbiamo per generare lavoro all'interno di questa area interna, generare lavoro mettendo in risalto quelle che sono le peculiarità, le bellezze, le ricchezze che questo nostro territorio ha, dall'altra sviluppare questi smart village, che sono questo nuovo termine per identificare le best practice delle aree rurali in cui si sviluppano, capacità di attrarre anche lavoratori che, come dire, possono lavorare dalle aree interne per società che sono in tutto il mondo, riuscire a sviluppare maggiormente quello che è il tema della connettività, della digitalizzazione delle nostre aree, che potrebbe diventare determinante e sicuramente anche qui il GAL può fare la sua parte mettendo nella prossima programmazione disponibilità alcune risorse. Parlando di lago, visto che una parte del GAL ha proprio il lago di fianco, che cosa intendete fare per valorizzare? Lì c'è il tema principalmente legato sia al settore turistico, quindi sicuramente il tema del turistico sul lago è molto sentito, come molto sentito per quanto riguarda il tema agricolo, il tema dell'olivicoltura, quindi riuscire a sviluppare maggiormente quello che è un'olivicoltura di qualità. Non a caso abbiamo anche qui un progetto di cooperazione sul tema dell'olio, tema di cooperazione che abbiamo condiviso anche qui con il GAL da Valsabia, che è il capofila, sicuramente con una dotazione di olive molto maggiore rispetto alla nostra, l'olio sicuramente sul Garda è molto più conosciuto del nostro olio e con loro stiamo sviluppando appunto questo progetto di cooperazione assieme ad iPol per cercare di aumentare quella che è la qualità dell'olio sul nostro territorio e andremo a sviluppare anche un oliveto didattico sul territorio del... Un frantoio non ci starebbe? Un frantoio ci starebbe, è un tema abbastanza difficile e complicato quello del frantoio. Sì perché sarebbe difficile soddisfare altre e più esigenze nel volere nel proprio territorio un frantoio, se non vado errato. Esattamente, uno dei temi, una delle criticità che abbiamo incontrato, sicuramente il frantoio era uno degli interventi previsti all'interno di questo piano di sviluppo locale, una delle criticità maggiori che abbiamo incontrato per la realizzazione di questo frantoio, che attualmente non c'è un frantoio unico per tutta tutta l'area, però è un tema che è ancora caldo, un tema che stiamo cercando di sviluppare, la criticità maggiore è sicuramente quella di riuscire a mettere insieme, quindi anche qui dobbiamo proseguire l'attività di animazione per mettere insieme le persone, per mettere insieme teste pensanti, per mettere insieme obbisti ed eventualmente agricoltori proprio nel settore dell'olivicoltura, per cercare di realizzare questo frantoio. Come dire, se dovessi pensare a qualcosa di incompiuto di questo PSL, il tema va proprio al frantoio del lato GAL, su cui come lato dei laghi. Sicuramente come GAL, come Consiglio di Amministrazione, ci abbiamo speso tanto, abbiamo cercato di mettere insieme, però sicuramente, probabilmente non era il tempo giusto. Devono maturare. Devono maturare. Sia le olive che i tempi devono maturare. Esattamente. Altri progetti ancora che ha nel cassetto e che non ha realizzato? No, devo dire che quello dell'olio è il tema principale. Attualmente uno dei temi a cui sono abbastanza caro è lo sviluppo di attività dei servizi all'interno, il mantenimento dei servizi all'interno dei nostri piccoli comuni. Abbiamo cercato di fare un progetto di cooperazione che si chiama una montagna di botteghe, anche qui con altri GAL, sulla valorizzazione delle botteghe all'interno dei nostri centri storici che attualmente sono molto in difficoltà, ma che sono state un elemento fondamentale durante il periodo della pandemia, che possono essere una risorsa in una logica anche di multiservizio di queste realtà all'interno delle nostre comunità. Quindi sicuramente uno dei temi è cercare di sviluppare e di mantenere servizi all'interno delle nostre comunità, servizi che possono essere di diversa natura, che possono essere servizi sociosanitari, che possono essere servizi culturali, che possono essere servizi atti a garantire la permanenza lavorativa delle persone all'interno di questo territorio attraverso servizi che vadano a superare quello che è il digital divide. Quindi tanti temi, ma sinceramente quello che mi sta a cuore è che i nostri territori, i nostri piccoli comuni non perdano servizi che sono fondamentali affinché la gente possa rimanere all'interno del nostro territorio e si possa contrastare veramente quello che è lo spopolamento. Io penso che sicuramente uno dei temi per cui la gente non vive su questo territorio è il tema del lavoro. Il tema del lavoro per cui la gente si deve spostare. Ci sono alcuni lavori che attualmente possiamo pensare di poter importare in montagna e dobbiamo concentrarci su questi lavori che possiamo importare nelle nostre aree interne e sviluppare dei servizi affinché un lavoratore possa in maniera tranquilla lavorare da questa area interna senza che abbia problemi di connessione e la connessione sia veloce affinché possa garantire un buon lavoro all'interno di questi territori. E superare qualsiasi tipo di frontiere. Esattamente perché alla fine… Ormai siamo un villaggio globale qualcuno dice. Esattamente, siamo esattamente, credo anche io un villaggio globale, in questo villaggio globale abbiamo anche le nostre aree interne. Affinché siano comprese all'interno di questo villaggio globale è necessario che queste aree interne siano degnamente connesse con tutto il mondo. Un'altra domanda. In questi sette anni lei ha preso visione di una realtà, 56 comuni, 56 realtà diverse. Sicuramente lei essendo del territorio conosceva già la maggior parte di problemi, problematiche o situazioni, ma che cosa l'ha maggiormente colpita? C'è stato qualcosa che l'ha maggiormente colpita in quanto a lei non nota? Il tema sicuramente è quello del… Io provengo dalla Val Seriana, quindi il tema della valorizzazione dell'olio e di quanto potenziale olio sia disponibile sul lato dei laghi bergamaschi, di quanto questo olio possa essere valorizzato e possa essere qualità. Sicuramente è una cosa che mi ha stupito, come mi ha stupito la produzione di vino a costa Volpino, come tante piccole e tante micro realtà che non conoscevo ma che sono veramente di qualità sul nostro territorio. Quando parlo di ricchezze, anche di capitale umano, sul nostro territorio si possono trovare tante belle persone che stanno lavorando bene, che stanno valorizzando il nostro territorio. Quindi posso dire che la maggior scoperta riguarda le tante persone che ho incontrato, che hanno a cuore il nostro territorio, che hanno a cuore e ci mettono la passione per quello che fanno. Quindi sicuramente la miglior scoperta sono queste piccole nicchie che sicuramente dobbiamo impegnarci a mettere assieme perché abbiamo tanto potenziale sul nostro territorio che dobbiamo essere capaci di esprimere. Lei ha parlato di potenzialità per quanto riguarda il lago Sebino, per quanto riguarda l'olio e la potenzialità di eventuali ritorno alle miniere. Cosa ne pensa? Il ritorno alle miniere è un elemento delicato perché è un tema che riguarda un tema di sostenibilità, sostenibilità in termini ambientali, economici e sociali all'interno del nostro territorio. Sicuramente ogni attività ha di per sé un impatto perché non dobbiamo nasconderci perché nel momento in cui facciamo delle attività queste attività possono avere un impatto. Bisogna saper commisurare attraverso dei dati chiari, oggettivi, quelle che sono le potenzialità e quelle che sono le criticità di questo intervento. Sicuramente il tema delle miniere è un tema che va affrontato con la giusta attenzione e con la giusta analisi dal punto di vista ambientale, economico e sociale perché può essersi un vantaggio però può essere anche una grossa criticità su questo territorio se non gestita nella maniera corretta. Secondo lei è giusto che certe decisioni vengano prese solo dall'alto, vale a dire imposte dal governo o da situazioni di comodo per qualcuno in questo momento al governo? Di per sé la valutazione di impatto ambientale che dovrebbe comunque dire, comunque questo potenziale intervento, dovrebbe essere una, per normativa e per filosofia di per sé, dovrebbe essere una attività che dovrebbe coinvolgere tutti gli stakeholder. Quello che stiamo assistendo in Italia principalmente per questa burocrazia abbastanza faragginosa che tende a limitare quello che è il coinvolgimento di tutti gli stakeholder e di tutti i potenziali è che c'è meno questa, non si vede questa ampia partecipazione alle scelte. Quindi quello che dobbiamo tornare è di essere protagonisti non solo, cioè non è una decisione che riguarda solo gli enti locali ma riguarda anche i cittadini dei posti in cui andremo a fare, di cui eventualmente andranno a fare le miniere. Quindi in questa logica di partecipazione allargata non credo sia giusto che ci sia un solo decisore a prendere questa scelta, un decisore che è lontano dai territori e quindi non può vedere quello che i territori pensano, quello che i territori possono, che impatto possono avere sui territori. Deve essere una decisione che per sua natura non va a coinvolgere solo gli enti locali ma va a coinvolgere anche i singoli cittadini di quel territorio. Quindi con un'ampia partecipazione rispetto a quella scelta. E dopo questa affermazione si chiude questo appuntamento con il GAL, questo oggetto sconosciuto o meglio soggetto sconosciuto ma che è stato ampiamente sviscerato dal Presidente Alex Borlini, Presidente dei Lai di Bergamaschi e soprattutto Valle Seriana GAL. La ringrazio per essere stato presente, esaustivo, soprattutto sincero nell'esprimere delle opinioni. Non sempre è facile dire ciò che si pensa per non turbare la suscettibilità di qualche amico, parente o nemico. Grazie a lei, buon lavoro per la sua missione, perché è una missione, perché in effetti uno che si impegna per quanto riguarda il bene comune è sempre una missione, le auguro di essere rieletto, naturalmente a presto. A voi tutti, ci vediamo la prossima settimana con un altro argomento. Buona giornata.